La notte bianca dei libri, giovedì 21 giugno, abbiamo pensato di organizzare la biblioteca e di unire la nostra parte dedicata alle performance, alle presentazioni dei libri all'ortocultura, che è il progetto di 100.000 orti in Toscana che ha coinvolto anche la nostra biblioteca. In questa occasione alle 18 ci sarà l'inizio, inizieremo a trapiantare i fiori e le piante che abbiamo deciso di installare nell'ortocultura e poi ci sarà un momento musicale di degustazione e poi ci sarà un pezzo fatto da Sergio Ciulli, siamo onorati che lui abbia deciso di fare questa performance alla biblioteca e quindi ci sarà questo evento in serata alle 21.00. Perfetto.